Ciao a tutti e benvenuti in questo video dove approfondiremo le funzioni e alcuni comandi principali del programma di Interior Design Sweet Home 3D. Per iniziare, scegliamo la modalità di accesso al programma. Possiamo utilizzare la versione online accedendo al sito di Sweet Home 3D, cliccando su Online, poi su Test Sweet Home 3D JS Online e infine su Empty Home. Nel caso voleste utilizzare la versione online del programma, vi ricordo di registrarvi al sito per poter salvare i vostri progetti. Per accedere al programma in modalità offline, ci basterà cliccare semplicemente sull'applicazione installata sul nostro computer. Per qualsiasi ulteriore dubbio o informazione riguardo la registrazione al sito, l'installazione del programma e l'accesso a Sweet Home 3D, vi consiglio di consultare la lezione 00 di questo corso pubblicata sul canale. Personalmente, io accederò alla versione online del programma. Come già anticipato durante il video precedente, l'interfaccia è costituita da quattro spazi principali. Il riquadro superiore, caratterizzato da questa griglia, sarà il nostro spazio di lavoro principale, fondamentale per la creazione dei nostri progetti. Il riquadro inferiore di colore grigio chiaro ci permette di vedere un'anteprima 3D dei nostri lavori in tempo reale e presto ne darò una dimostrazione. A sinistra abbiamo il repertorio di oggetti che possiamo inserire all'interno dei nostri ambienti. In questo caso troviamo elementi di arredo per il bagno, per la cucina, per il soggiorno, per la stanza da letto, per l'ufficio, per l'esterno e per la sala hobby. Negli elementi di arredo sono inclusi anche cibo, piante e abbigliamento. Sempre in questa sezione del programma troviamo porte e finestre, luci, scale e perfino personaggi e veicoli. È possibile scegliere gli oggetti di arredo in modo più specifico dal menu a discesa, selezionando gli ambienti o gli elementi di cui abbiamo bisogno. La barra degli strumenti posizionata in alto sarà essenziale per la creazione degli edifici. Puntando il cursore e lasciandolo fermo su una qualsiasi icona, è possibile capire con esattezza il tipo di strumento con il quale andremo ad interagire. A partire da sinistra, i primi due comandi ci permettono di stabilire la vista. Cliccando sul primo otteniamo una vista dall'alto. Cliccando sul secondo stabiliamo una vista dal punto di osservazione umano. Apparirà così sulla griglia un omino di cui possiamo modificare l'altezza degli occhi, l'angolo del corpo e l'angolo della testa. Procedendo sulla barra degli strumenti troviamo queste due frecce. La freccia di sinistra ci permette di annullare l'ultima modifica, la freccia di destra di ripeterla. A seguire abbiamo gli strumenti di modifica come elimina selezione, taglia, copia e incolla. L'icona isolata che indica una sedia ci permette di aggiungere al nostra casa l'arredamento selezionato dal catalogo. I successivi sette strumenti sono veramente importanti per la riuscita del progetto. Cliccando sulla prima icona possiamo selezionare gli oggetti e cliccando sulla seconda saremo capaci di spostarci all'interno del nostro spazio di lavoro. I comandi successivi sono strumenti di costruzione. In ordine possiamo utilizzare i seguenti strumenti per creare muri, creare stanze, creare polilinee, creare dimensioni e aggiungere testo. Questi altri quattro comandi ci permettono di abilitare o disabilitare il magnetismo, ossia l'aggancio automatico alla griglia, bloccare e sbloccare gli elementi di base, ruotare orizzontalmente gli oggetti oppure ruotarli verticalmente. I successivi quattro comandi sono relativi alle impostazioni di testo, che ci consentono di aumentare o diminuire il testo e alternare il grassetto o il corsivo del testo selezionato. Questi due strumenti ci permettono di avvicinarci o allontanarci ortogonalmente al piano di lavoro. Cliccando sull'icona della lampadina possiamo ottenere maggiori informazioni sulla versione di Sweet Home 3D. Infine, cliccando sull'ultima icona in alto a destra, accediamo al pannello Preferenze, dove è possibile gestire le impostazioni in merito alla lingua, le unità di misura e la valuta. Spuntando le caselle possiamo abilitare altre funzioni del programma, come i pulsanti per la navigazione 3D, selezione ed editing nella vista 3D, vista aerea centrata sulla selezione, selezionare il visitatore durante il movimento 3D, il magnetismo e la griglia. Dal menu a discesa possiamo stabilire il carattere predefinito del testo che andremo ad aggiungere al nostro lavoro. Possiamo decidere come visualizzare all'interno della piantina gli elementi di arredo, se come da catalogo o dall'alto. È possibile stabilire il rendering della stanza nella piantina scegliendo tra monocromatico o colore e texture. Effettuare una scelta per quanto riguarda il riempimento dei muri in pianta, il loro spessore e altezza, e infine scegliere lo spessore del piano. Ora abbiamo una panoramica generale ma completa dell'interfaccia, degli strumenti e dei comandi del software, ma ovviamente ogni strumento verrà poi approfondito in modo specifico nelle lezioni successive dedicate. Infatti questa lezione sarà incentrata proprio su uno degli strumenti base, ma essenziale per la creazione di un edificio, ossia le mura. Per cominciare, selezioniamo il comando Crea muri sulla barra degli strumenti. Ora, puntando il cursore sulla griglia, facciamo clic con il tasto sinistro del mouse per stabilire il punto d'inizio del nostro muro. Trascinando il mouse, vediamo che appaiono tre informazioni principali, lunghezza, angolo e spessore. È possibile stabilire un angolo da 0 a 180 oppure da 0 a meno 180 gradi. Con la funzione Magnetismo Attiva è possibile ottenere solo angoli multipli di 15. Disabilitando la funzione, possiamo invece stabilire l'angolo di ogni grado. La lunghezza e lo spessore del muro sono indicati in centimetri, unità di misura fornita di default dal sistema, che eventualmente può essere modificata cliccando sull'icona Preferenze. Per determinare il punto finale del muro, facciamo doppio clic con il tasto sinistro del mouse. In un altro caso, facendo un solo clic, stabiliamo la fine del muro creato, ma anche l'inizio di un altro. In questo modo è possibile creare un ambiente chiuso o aperto in modo continuo. Nel caso in cui volessimo creare un ambiente chiuso, al momento della chiusura invece premiamo due volte. Per familiarizzare con lo strumento, proviamo a costruire diverse tipologie di muri. Ad esempio, costruiamo uno spazio lungo 5 metri e largo 3, chiuso da muri perpendicolari. Selezioniamo il comando Crea muri, facciamo clic sulla griglia e trasciniamo il mouse fino ad una distanza di 300 cm. Facciamo nuovamente clic, cambiando direzione e stabilendo un angolo di 90 gradi. Trasciniamo il mouse fino ad arrivare ad una lunghezza di 500 cm. Facciamo clic e ripetiamo lo stesso processo per gli altri due muri, ricordando di cliccare due volte per chiudere. La funzione del doppio clic può essere svolta ugualmente con un solo clic e premendo poi il tasto ESC sulla tastiera. Una volta stabilito un perimetro, è possibile creare muri interni ad esso, utilizzando sempre l'apposito strumento. Possiamo modificare un muro già creato selezionando lo strumento Seleziona oggetti nel piano. Con questo strumento è possibile selezionare i muri singolarmente e modificarne la lunghezza e l'angolo, cliccando agli estremi della costruzione. Quando selezioniamo un muro, possiamo renderlo curvo interagendo con il simbolo posto centralmente, cliccando con il tasto sinistro e trascinando il mouse per stabilire il raggio di curvatura. Possiamo anche traslare sul piano il muro selezionato in questo modo. Nel caso in cui avessimo due muri collegati e ne spostassimo solamente uno, il secondo si adatterà di conseguenza. Possiamo selezionare e modificare più numeri contemporaneamente facendo clic e tenendo premuto il tasto SHIFT. Per selezionare tutto, invece, teniamo premuto il tasto sinistro del mouse, con il cursore puntato sullo spazio di lavoro libero, e trasciniamolo fino a che il rettangolo celeste non avrà incluso tutti gli elementi. Nel caso in cui sbagliassimo a selezionare un muro, ci basterà tenere premuto il tasto SHIFT e fare clic sul muro da diselezionare. Per eliminare un muro basterà utilizzare lo strumento di selezione, fare clic sul muro da rimuovere e cliccare sulla tastiera il tasto Cancella, oppure selezionare il muro e con il tasto destro del mouse andiamo su Elimina selezione, o ancora possiamo selezionare e cliccare il comando dedicato presente all'interno della barra degli strumenti. Possiamo notare che lo spazio inferiore della griglia mostra esattamente un'anteprima del modello 3D di ciò che abbiamo costruito in pianta. Il modello 3D generato muta contemporaneamente alle modifiche effettuate sul piano di lavoro. Per muoverci attorno al modello 3D teniamo premuto il tasto sinistro e muoviamo il mouse. Possiamo allontanarci e avvicinarci dal modello 3D con il trackpad allontanando e avvicinando due dita che scorrono simultaneamente su di esso. Per svolgere le stesse azioni possiamo servirci dei pulsanti per la navigazione 3D, che possono essere resi visibili cliccando sull'icona Preferenze e spuntando la casella dell'impostazione. Con le frecce direzionate verso l'alto e verso il basso possiamo fare Zoom in e Zoom out. Con le frecce verso destra e verso sinistra possiamo ruotare il nostro punto di vista per orizzontale e con le frecce interne possiamo ruotare il punto di osservazione per verticale. Cliccando con il tasto sinistro del mouse sull'anteprima 3D appariranno ulteriori impostazioni di sistema. Possiamo selezionare una vista aerea, una vista virtuale e memorizzare un punto di vista. Cliccando su Modifica vista 3D possiamo modificare le impostazioni di anteprima come il colore del suolo e del cielo oppure utilizzare una texture in particolare per entrambi. Nella sezione Rendering 3D possiamo invece regolare la luminosità delle luci e la trasparenza dei muri con gli slider appositi. In questa lezione abbiamo approfondito l'interfaccia del programma e abbiamo visto nel dettaglio il funzionamento dello strumento Cramuri. Le prossime lezioni saranno dedicate all'utilizzo degli altri strumenti proposti dal programma. Perciò concludiamo qui questa lezione. Grazie per aver visto il video e alla prossima. Se volete rimanere aggiornati su nuove guide iscrivetevi al canale e se volete supportarci abbonatevi al canale come supporter.